Dopo quello che hai fatto in Sudafrica, che hai stupito tutti, questi Trison Games saranno il tuo primo grande evento sportivo al quale parteciperai. Ti senti un po' di tensione? Spero perché io ho emozione e spero di fare molto bene a Firenze, spero di farci bene con la mia nazionale di Italia, con i miei compagni di Italia. A Sudafrica ho fatto molto bene, ovviamente, anche bei risultati. Spero di fare bene anche a Firenze e lì devo concentrarmi senza paura, evitato di dire che non ce la faccio e non molai mai. A quale gare parteciperai a Firenze? Le gare, non lo so, forse devo fare tutto, la corsa, le tappette, il titolo, sotto l'umore, non c'è il peso. Senti, è una battuta su questa nazionale vostra, che aspettative ha questa nazionale per i Trison Games? Eh, facciamo il nostro nazionale dell'Italia, dobbiamo fare la nostra casa del gioco, non so come si dice, dobbiamo solo fare bene, ecco, il nostro senso, la tecnica, ecco. Grazie.